L'azienda sanitaria universitaria integrata ha attivato il sistema di consegna di referti online in alternativa al ritiro o all'invio tramite posta. Il servizio è gratuito ed attivo sul sito www.aswitz.sanita.fwg.it nella sezione servizi online referti online. Per accedervi occorrerà autenticarsi con la propria carta regionale dei servizi, digitare il PIN e specificare il numero di richiesta presente sul promemoria di prenotazione. Sarà inoltre necessario dotarsi del lettore smart card da collegare al proprio personal computer che la regione distribuisce gratuitamente ad ogni nucleo familiare. Per ottenerlo basta recarsi ad uno degli URP della regione. Il referto online resterà visibile per 45 giorni dalla data indicata sul promemoria di prenotazione e al momento della prenotazione dell'esame il paziente potrà chiedere che il referto gli sia consegnato online utilizzando un apposito modulo. La scelta ben intesa e facoltativa, il paziente può scegliere di continuare a ritirare il referto agli sportelli. Il servizio non fornisce i risultati dei test di laboratorio esclusi da leggi speciali, ad esempio sull'HIV, né quelli che includono dati genetici.